Stefano Albertini Mussini, direttore della Casa Italiana Zerilli Marimò e professore di italiano alla New York University, è stato insignito del premio Alumnus dell'anno 2020. La cerimonia si è svolta nell'aula magna dell'Università degli Studi di Parma, interdetta al pubblico ma in diretta streaming, dove Stefano Albertini ha ricevuto dal rettore Paolo Andrei il riconoscimento istituito nel 2018 dall'Ateneo e dall'Associazione Alumni e Amici dell'Università di Parma. E allora ascoltiamo Stefano Albertini e Anna Maria Cusinotta. Sono veramente orgoglioso questa sera di accogliere come nostro premiato di quest'anno il professor Stefano Albertini. Per me è veramente un onore accoglierlo qui in Aula Magna. Lo voglio ringraziare veramente di cuore perché ha potuto realizzare in tutti questi anni dalla sua laurea del 1987 ad oggi veramente un percorso professionale, umano e di sviluppo delle conoscenze in ambito umanistico veramente importante che lo ha posto ai vertici di diversi organismi a livello internazionale e in particolare come docente alla New York University e come direttore della Casa Italiana Zerilli Marimò e il consiglio direttivo dell'Associazione Alumni e ha deciso di attribuire il premio Alumni dell'anno 2020 a Stefano Albertini. Grazie a tutti voi e all'Associazione Alumni e Amici dell'Università di Parma per avermi voluto nominare all'UMNUS dell'anno 2020. È stato un momento molto emozionante ricevere questo riconoscimento nell'università dove ho studiato, nella città dove ho studiato e nonostante tutte le restrizioni imposte da questo momento l'ho vissuto anche in maniera emotivamente anche molto intensa, forse come si capiva. Per me è stato un riconoscimento del lavoro che sto facendo, non da solo, ma insieme ai miei colleghi che come è stato sottolineato è un lavoro da pontiere, costruire un ponte e costruire delle relazioni tra le due sponte dell'Atlantico e fare in modo che la cultura diventi sempre di più il terreno comune dove la gente dialoga, si conosce, si rispetta e impara a lavorare insieme. Saluto con grande affetto gli spettatori di Patrimonio Italia TV, li invito a seguire anche le iniziative della Casa Italiana e ripeto, quello che credo che tutti abbiamo imparato in questo periodo è che queste risorse di rete televisive, canali YouTube, podcast non sostituiscono le nostre modalità di relazioni, ma ci aiutano a creare questa rete di persone che hanno un interesse comune, un amore comune, che nel nostro caso è quello dell'Italia, della nostra cultura, che è un bene da dividere, da condividere. È uno di quei capitali che più si spandono e più rendono. Ci sono arrivate numerose candidature, candidature veramente di altissimo profilo, altissimo spessore e dopo averle attentamente esaminate tutte, il Consiglio ha deciso di attribuire il premio all'umnus 2020 a Stefano Albertini, direttore della Casa Italiana Zerilli Marimò e professore di italiano alla New York University. Lasciatemi aggiungere, sono una piccola cosa. Normalmente usiamo l'immagine del ponte per spiegare che cos'è la nostra associazione, che vuole essere un ponte tra l'università e il mondo delle imprese, il mondo delle professioni. Stefano Albertini incarna veramente i valori della nostra università, in quanto è sempre stato un ponte tra Parma e New York, un ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, tra la cultura italiana e la cultura americana.